Il Taranto batte anche il Cerignola, la terza è a tre punti dalla promozione in Serie C, basterà vincere in casa dell'Avello all'ultima giornata. Il Brindi si vede l'inferno della retrocessione, KO a Casarano adesso serve un miracolo. Se il GP vince il Giappone di Bruni, il Taranto affascinata dai catamarani. Cerignola chiude la pratica già nei primi 15 minuti, vince anche il Picerno contemporaneamente a Fasano e adesso servirà un successo nell'ultima giornata in casa dell'Avello a Venosa per festeggiare la promozione aritmetica in Serie C. Il nostro servizio è del direttore Gianni Sebastio. Un approccio devastante, il Taranto parte fortissimo, tre gol nei primi 14 minuti, il quarto d'ora rosso-blu segna una serie ipoteca sul successo finale nonostante un ottimo Cerignola che pure l'aveva riaperta ad inizio di ripresa. L'esito della gara è quello segnato in avvio. È la domenica in cui tornano i tifosi sugli spalti, ionici concentrati ed organizzati per lunghi tratti. La gara è frizzante, il Cerignola non ha mai abbassato la guardia. 4 a 2 il risultato finale. La fiera del gol parte dopo 50 secondi quando Marsili, col destro da fuori aria, fa partire una sventola dai 25 metri che si insacca sotto l'incrocio. Una rete di rara bellezza. Nove minuti più tardi c'è il raddoppio. Santerpia serve un assist al bacio per Nicola Strizzo che di testa di giustezza trova il varco giusto. 2 a 0 ma non è finita. Passano ancora 4 minuti. Diabì imposta e finalizza con la complicità di Santerpia la rete del 3 a 0 con un perfetto diagonale. Il Cerignola non sta a guardare al ventesimo. Malcores sfrutta l'occasione e mette il pallone in fondo al sacco dal limite dell'area di rigore. 3 a 1. La partita è pazzesca. Alla mezz'ora c'è il tiro cross di Santerpia con il pallone che termina di poco fuori. Al 46esimo una rasoiata di Versenti parata sul primo palo da Fares. Un minuto più tardi ancora Versenti. Pescato da Silvestri si libera in aria, fa partire un tiro cross. Pallone attraversa tutto lo specchio della porta senza nessuna deviazione. Nella ripresa il Cerignola la riapre. Cross di Esposito per De Cristofaro. Prodezza di Ciekovski sulla respinta. L'ultima deviazione è quella di Loi Odice che firma il 3 a 2. Il Cerignola ha un'altra occasione. 3 minuti più tardi la palla gol capita a Malcore che non trova l'impatto giusto con la sfera spedendo sul fondo. Il Taranto ritorna a più 2 al decimo minuto quando sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita. Sant'Arpia si scontra con De Cristofaro per l'arbitro e calcio di rigore. Sul dischetto si porta Nicolas Rizzo che con freddezza sigla la sua personale doppietta. 42esimo punizione di Marsili. Fares respinge distinto in calcio d'angolo. Si giunge al terzo dei 4 minuti di recupero per vedere un'altra occasione da rete. Malcore di testa ben piazzato. Manda alto. Taranto batte Cerignola. 4 a 2. Andiamo a sentire le dichiarazioni in sala stampa. Dovevamo partire bene, dare subito l'impronta giusta alla gara e i ragazzi sono stati eccezionali perché hanno avuto un approccio alla partita a dir poco devastante e sicuramente il gran gol di Marsili ci ha dato già in là per aumentare ancora quella voglia di approcciare bene la partita e poi il resto lo hanno fatto benissimo i ragazzi. Dispiace per il gol del 3 a 1 dove abbiamo perso quella palla in uscita e invece di giocare una palla esternamente siamo andati dentro e lì poi Malcore ha fatto un grandissimo gol e poi l'approccio del secondo tempo dove abbiamo preso quel gol del 3 a 2 e lì abbiamo sbagliato un attimino l'uscita però bravi i ragazzi poi a riprendere subito la partita e il rigore mi è sembrato netto e poi a sacrificarsi alla fine cercando di mantenere il risultato. È una partita combattuta a parte gli ultimi dieci minuti dove la mia squadra davvero non ne aveva più, aveva spesso tutte le energie. Il Taranto è partito molto bene, è partito molto forte, è stato bravo e fortunato a trovare subito il gol con Marsili che ha fatto un grandissimo gol e la mia squadra si è un po' scoraggiata dopo due minuti perché non si aspettava un gol del genere ma non si aspettava, si aspettava sicuramente una partenza forte ma non che riuscissero a trovare nell'immediato un gol del genere che gli ha dato un po' la partita in discesa. Abbiamo provato a cambiare anche qualche situazione per mettere in difficoltà un avversario oggi molto forte, molto quadrato con due mezzi tecnici importanti. Il Taranto però rinvia la festa a promozione, sarebbe stata la promozione diretta già ieri soltanto in caso di sconfitta del Picerno a Fasano, invece il Picerno a Fasano ha vinto al nostro servizio. Il Picerno stacca l'ultimo ticket utile per la promozione a Fasano. Il gol dopo un minuto e 19 secondi ha freddo e per il Picerno sembra già segnata la gara a suo favore. E invece no, i Lucani devono sudare molto fino al 95esimo per aver ragione di un Fasano salvo, mai domito, che ha creduto fino alla fine al pareggio, anche contro l'insufficiente arbitro Barberio di Campobasso. I padroni di casa ci tengono a far bene davanti al ritrovato parziale pubblico, si impegnano, coprono le lacune di finalizzazione con grande agonismo a centrocampo. Poche in realtà le azioni pericolose. Ecco il gol partita, trascorre un minuto, Dettori crossa, Conè infila la porta. Il Fasano si impegna, intanto al 14esimo si infortunia in attacco Albadoro. Entra Iadaresta. I biancazzurri cercano il gioco, la risposta arriva solo al ventesimo Melillo dalla distanza. I rosso-blu sono ancora più pericolosi, al 31esimo Kosovan punta la porta Iadaresta, non arriva alla deviazione. Fuga di Bernardini al quarantesimo, l'azione sfuma con Melillo. Sulla ripartenza, 41esimo, l'arbitro Barberio vede un fallo di Lopez Petruzzi inesistente su D'Angelo. Rigore. Inutili le lunghe proteste. Batte dal dischetto Iadaresta, suma intercetta. In chiusura, 47esimo, Melillo dalla bandierina Lopez Petruzzi sulla traversa. La ripresa è ancora Avara di occasioni molto impegno fasanese. Il Picerno si limita al controllo. Al ventitresimo si segnale il diagonale di Stasi. Conclude al Melillo, al trentunesimo Giuliani in angolo. Inutili gli assalti del finale. Il Brindisi invece perde a Casarano per 1-0 e si complica decisamente la strada verso la salvezza. Non è più possibile intanto arrivare alla salvezza diretta. Aritmeticamente resta possibile, però resta accesa la fiammella di uno spareggio contro una tra Aversa o Francavilla. Se il Brindisi dovesse vincere l'ultima e una di queste due dovesse invece perdere, anche col pari. Entrambe sarebbero salve. Il servizio Davide Cucinelli. Il Casarano vince e spera. Il Brindisi perde e vede a un pasto la retrocessione all'eccellenza. Il Casarano parte bene nella prima frazione di gara. Prova ad approfittare subito al nono minuto con il giocatore più in forma nell'approccio iniziale della gara, Giacomarro, che mette al centro un pallone per Feola che di testa manda alto sulla traversa. Il Brindisi fatica a reagire e a trovare spazi. Il Casarano nel finale di tempo, dopo aver manovrato senza riuscire a creare grossi pericoli alla porta a Brindisina, trova il vantaggio al 34esimo. Bellissima l'azione di Favetta per Rodriguez che mette il pallone al centro e sotto misura Feola non sbaglia e sblocca il risultato nella ripresa. Subito un botte e risposta tra le due formazioni. Al primo minuto calcio d'angolo per il Brindisi. Sotto misura Ingredda manda sul fondo. Un minuto più tardi sulla ripartenza è Rodriguez che entra nell'area Brindisina. Si accentra ma la traversa gli nega la gioia del gol. Al 24esimo si pareggiano i legni. Cross di Calenne. Sotto misura Merito colpisce la parte centrale della traversa. Il Casarano potrebbe trovare il raddoppio al 34esimo con Tascone su punizione che colpisce l'incrocio dei pali. Al 37esimo ancora Tascone a provarci. In uscita Pizzolato devia la sfera. Rimane in 10 in pieno recupero il Casarano. Il Brindisi con le ultime forze prova a spingere al 49esimo su calcio d'angolo. Nessuno riesce a deviare sotto misura. Con esso terminano le speranze di pareggiare per la formazione Brindisina. Il Casarano aggancia il quinto posto e adesso può sperare nel raggiungimento dei play-off. A proposito dei play-off non sono ancora aritmetici per il Lavello che ha perso a Dandria per 2-0. Noi invece andiamo a vedere il pareggio con rete nel finale tra Nardò e Bitonto. Alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Nardò, mister Valeriano Loseto aveva chiesto la partita perfetta ai suoi. Ma la perfezione, si sa, non è di questa terra e tante sono le componenti, spesso arcane e inconoscibili, che determinano il destino di una gara, come possono essere i fischi amletici di un arbitro o le solite inspiegabili amnesie collettive del reparto arretrato. Così gli oncelli si giocheranno tutto negli ultimi 90 minuti di domenica prossima col Fasano. Dunque il tecnico baresi va sul classico e sceglie il luminare dell'arte difensiva Petta accanto all'assistente Colella Danilo dietro. Il sudamericano Turbiasonna signoreggiarne al mezzo da par suo col fosforo ritrovato di Montinari. Davanti il solito tridente, gli esterni Trierico e Taurino al servizio di Capitano Lattanzio. Il collega Danucci si rassicura le spalle con straniere Romeo, consegna la bacchetta di direttore d'orchestra all'Indo Scialpi, la fantasia ronzante sarà dell'ex potenza e lo svedese Tonros a torreggiare davanti. Neppure il tempo di schierarsi sul prato terroso del Giovanni Paolo II è ospite in vantaggio. Minuto 4, più scaltro di Ulisse, Lattanzio fuffa il cuoio a Mengoli e solo Fredda Milli in uscita. Dopo il quarto d'ora finisce largo il destro di Romeo che aveva ripreso una ribattuta della barriera sul piazzato di Scialpi. Al ventunesimo ampia triangolazione fra Montinaro l'esterno Trierico che crossa e trova l'inzuccata fuori misura. Due minuti è contropiede cestinato maldestramente da Taurino con i neroverdi addirittura in superiorità numerica. Doppia occasione al ventiseiesimo, prodigio di Milli su incornata di Petta che ci riprova subito dopo scheggiando la traversa. S'accenda e qualche primo dopo il genio del fantasista attascabile Taurino che inventa per Trierico che chiude con un tiraccio inguardabile. Al ritorno agli spogliatoi i Granata sembrano più aggressivi ma sarà solo un'impressione. All'ottavo palla scodellata da Nicolao in area, solo brividi per gli ospiti. Giallo dall'altra parte nei sedici metri nei retini al dodicesimo. Trebbiato Montinaro in rapido controgioco da Milli un difensore. Arcidiacono resta afono. Minuto diciotto. Mancino satanico di Taurino dopo trama dedalica dei Bitontini, alto di nulla. Alla mezza destro teso di Loris Palazzo e Guantoni di Mill in corner. Subito dopo inzuccata di Colella e deviazione salvifica del muro Granata. Al trentaseiesimo traversone di Potenza e uscita è intitubante Bager di De Lucia. Il sinistro di Tedesco al quarantaduesimo stavolta non è mirabolante come altri. Poi ad un respiro dalla fine il punto della Beffa. Fallo su Biasson non visto, anticipo di Petta sanzionato. Piazzato dalla tre quarti di Caputo inzuccata vincente di Nicolao ed è uno a uno. Qualità, professionalità, tradizione con il valore aggiunto di una sensazionale competitività dei prezzi. È la firma di Arredo Casa Serafino su tutte le sue proposte in promozione. Vieni a scoprire le straordinarie condizioni d'acquisto di questo arredamento completo con cucina, camera matrimoniale, parete e cameretta in pronta consegna. Arredo Casa Serafino, Francavilla Fontana, via per Grottaglie, chilometro 2,6. La qualità è di casa. Il calore di ambienti accoglienti, la condivisione con le persone più care, il meritato relax. Realizza da nuovo arredo il sogno di una casa dove vivere momenti di serenità e benessere. Prodotti curati in ogni dettaglio, convenienza, professionalità e attenzione del nostro personale per soddisfare ogni tua esigenza. Acquista subito e paghi fino a tre anni con comoderate a tasso zero vero. Tanne TAEG zero per cento. Ti aspettiamo in tutti i nostri punti vendita. Nuovo arredo. Da cosa? Nasce casa. Ogni giorno diamo forma al latte per portare sulla vostra tavola solo prodotti di alta qualità. Venite a trovarci nelle nostre sedi di Brindisi, Mesagne, San Pietro Bernotico, Squinzano, Surbo, Lecce, Cavallino, San Cesario, Melendugno, Calimera e Martano. Caseificio artigianale L'Amor di Latte. Utilizziamo solo latte pugliese. Una casa Febal ti sorprende sempre. Scarica subito sul sito febal.com il tuo sconto di 3.000 euro e vieni a scegliere da Abita Tazzarito tra le tante fantastiche idee Febal. Abita Tazzarito e design, qualità, soluzioni d'arredo e i marchi più prestigiosi. Scarica subito lo sconto Febal di 3.000 euro e approfittane per venire a scoprire il tuo Abita. Abita Tazzarito a Mesagne. E allora rieccoci con la seconda parte del nostro TG Sport che si apre col SailGP, i catamarani che hanno letteralmente stregato e fatto innamorare Taranto dal punto di vista sportivo, vi abbiamo raccontato tanto anche nel corso del nostro telegiornale, dal punto di vista sportivo. La vittoria va al Giappone di Bruni, il servizio di lo spalluto. Giappone, Spagna e Stati Uniti e questo l'ordine d'arrivo nella gara finale di SailGP che si è disputata nel pomeriggio di domenica 6 a Taranto nelle acque del Mar Grande. Il Giappone ha così vinto la seconda tappa di SailGP, il campionato riservato ai catamarani veloci F50 in grado di raggiungere i 50 nodi orari pari a circa 100 km. Alle Bermuda tappa di avvio dell'evento aveva vinto la Gran Bretagna. Nella mancia finale i team velici per una questione di vento sono stati ridotti da 5 componenti a 3. In quello nipponico non c'era così il palermitano Francesco Bruni, unico atleta italiano in gara. L'imbargazione giapponese è stata guidata nella manche conclusiva da Nathan Utheridge. Anche nell'ultima giornata SailGP è stata seguita da un folto pubblico assiepato alle ringhiere del lungomare, piena alla tribuna allestita sulla rotonda, una gara che resterà a lungo nella mente dei Tarantini. Un sogno ragazzi, una città perfetta, tutto è andato benissimo, tifosi, visitatori, atleti contentissimi, una città che ha dato il meglio di sé, tutti che hanno lavorato nella stessa direzione, il mare che torna al centro della nostra programmazione, insomma c'è veramente un gran futuro da accogliere, dobbiamo solo metterci a lavorare. Abbiamo portato Taranto al centro dell'attenzione di tutti i paesi più importanti del Mediterraneo e anche d'oltremanica, oggi è una giornata importante che segna un punto di svolta, abbiamo dimostrato a tutti i Tarantini e anche a tutti quelli che non ci credevano che Taranto può essere qualcosa di molto diverso. La premiazione del Giappone si è svolta nello scenario magico della Castello Aragonese, dopo Taranto SailGP si trasferirà in Inghilterra a Plymouth per la terza gara prevista a luglio, SailGP si chiuderà il prossimo anno negli Stati Uniti. Dal SailGP torniamo al calcio, parliamo di Lecce, siglata la concessione decennale. Per l'utilizzo dello stadio Via del Mare tra il Comune e la società di calcio. Sarà un fine settimana caldo per chi segue il Lecce, tra sabato e domenica parleranno i primi dirigenti e il club di Via Colonello Costadura per illustrare il programma della prossima stagione, domenica mattina invece sarà il giorno della presentazione di mister Marco Baroni che avrà il suo primo contatto d'allenatore del Lecce. Non solo programmi tecnico, durante la mattinata di lunedì il presidente Saverio Stichinamiani insieme al sindaco Carlo Salvemini ha sottoscritto la gestione decennale dello stadio Via del Mare. Tutti i passaggi formali sono stati dunque completati. La società avrà l'uso esclusivo del più importante impianto sportivo della città che potrà gestire in piena autonomia come avviene le principali piazze sportive del territorio italiano. Ticketing, marketing, servizi, gestione del marchio, concerti e manifestazioni di richiamo secondo un piano capace di garantire l'equilibrio economico e il rilancio della struttura a fronte di un canone annuo che verrà utilizzato dal Comune per rafforzare le politiche dello sport in città e l'onere della manutenzione straordinaria. Grazie alla Convenzione inoltre la società potrà finalmente richiedere ottenere finanziamenti regionali ai sensi del titolo secondo per l'ammodernamento dell'impianto. I giochi in Mediterraneo 2026 garantiranno inoltre ulteriori investimenti e l'ammodernamento, magari finalmente la copertura totale del Via del Mare. La Virtus Francavilla invece continua a lavorare sul mercato per programmare la nuova stagione e per costruire una squadra che sarà probabilmente anche arricchita da vari titoli. Mentre in città cresce l'attesa per conoscere i progetti legati allo stadio che giovedì verranno illustrati per quanto concerne i lavori di ammodernamento del Giovanni Paolo II, va di pari passo anche la curiosità di appassionati e tifosi per la rosa che verrà messa a disposizione di Roberto Taurino in vista della prossima stagione e venerdì o al massimo nel weekend sarà un momento chiave per il ritorno alla Virtus Francavilla di Leonardo Perez. Le parti sono praticamente d'accordo, il calciatore ha già detto sì al presidente Magri e nel fine settimana in programma un incontro fra il numero 1 Biancazzurro e l'agente dell'attaccante mesagnese che inizialmente si sarebbe dovuto tenere mercoledì, con Tateo si parlerà anche di Patierno, ma anche qui i giochi sono praticamente fatti, l'ex Bitonto firmerà un contratto annuale con la Virtus per quanto riguarda la squalifica, lo stesso calciatore farà di tutto per ottenere uno sconto. Prosegue a gonfie vele invece l'avventura di Ciccio Cosenza e la sua Alessandria nei playoff di Serie C, il difensore, ieri rimasto per tutti i 90 minuti in panchina contro l'Albino Leffe, vede un passo alla finale per il salto di categoria, una volta finita ufficialmente la stagione dei grigi, poi si parlerà con la Virtus Francavilla alla ricerca dell'intesa, ma Taurino lo vorrebbe come perno centrale della sua difesa, il calciatore sarebbe pronto a portare con sé in Biacazzurro il suo enorme bagaglio di esperienza. Passiamo adesso ancora al calcio, però parliamo di eccellenza, si è chiuso ieri il girone B, andiamo a vedere quello che è successo nel big match di giornata. Finisce con un pirotecnico 4-2 la regular season del Martina che batte il Massafre, si qualifica ai playoff da secondi con un Tursi che ha ritrovato parzialmente il suo pubblico, l'appuntamento ora in semifinale contro il Matino, domenica prossima. In cronaca Pizzulli si affida al 4-4-2 con la coppia a serio Pignataro in avanti, risponde il Massafra con lo stesso modulo. La partita si sblocca proprio con il giovane Martinese classe 2002 che al minuto 22 anticipa Pizzaleo su punizione e fa 1-0. La risposta del Massafra arriva in chiusura di prima frazione, Ardino tocca un pallone con il braccio ed è rigore che viene battuto magistralmente da Ragneri e 1-1. Dura poco il pari degli ospiti che dopo un minuto si trovano di nuovo sotto, Ardino questa volta viene steso ed è di nuovo penalty. Sul dischetto va Pignataro che spiazza il portiere e fa 2-1. La seconda frazione continua a regalare emozioni e ancora Anthony Pignataro che scambia perfettamente con Ardino e chiude il triangolo con il Tris ed è 3-1. Due occasioni poi per il Martina che al minuto 54 è vicino al poker sempre con il colpo di testa di Pignataro ma Pizzaleo sbarra la strada e lo fa anche un minuto più tardi sul colpo di testa di Frucci su calcio d'angolo. A riaprire la gara però il Massafra con Amodio che sfrutta un errore di Maggi e Patronelli e fa il 3-2. Le ultime emozioni della gara le regalano i Biancazzurri. Prima ci prova Tusiano al 79esimo che colpisce il palo, poi il poker del Martina arriva nel recupero con Marino che calcia dalla distanza e trova un non perfetto Gallitelli. Termina così la regular season con il Martina che domenica prossima scenderà di nuovo in campo, questa volta per i playoff. Ai playoff anche il Barletta l'ultima giornata nel G1A è stata altrettanto pilotecnica. Vince e si prende il primato a un passo dal gong finale della regular season il Barletta che ha la meglio sul Manfredonia al termine di una delle partite più spettacolari del campionato di eccellenza. Al San Sabino di Canosa finisce 3-2 a favore dei padroni di casa che salgono a quota 25 punti in classifica e si regalano una semifinale playoff contro il Corato quarto, scavalcato il Manfredonia, chiamato adesso a vedersela con l'audace Barletta terzo, match scoppiettante fin dall'avvio. Al minuto 3 la prima chance capita sul piede di diritto il cui destro si stampa sulla traversa. Sono subito le prove generali del gol del vantaggio Barlettano che arriva al minuto 6 grazie a un colpo di testa vincente di Varsi. Il Manfredonia subisce il colpo e rischia in più circostanze ma la prima vera occasione da rete trova il pareggio. Assist in doppia battuta di Rubino dalla destra, tappi in vincente di trotta ad anticipare il diretto marcatore. La gioia si puntina dura appena qualche secondo però. Trascorrono tre minuti infatti e ancora Varsi conclude magistralmente un'azione di contropiede. Destro chirurgico e pallone all'angolino basso alla destra di Leuci. Nella ripresa e su Sulti non mancano il primo e nuovamente di Marca Sipontina. Partipilo viene atterrato al limite dell'aria al minuto 67. L'occasione ghiotta per Trotta che non si fa pregare con il destro. Dipinge una traiettoria che scavalca la barriera e fa secco lo vecchio. I biancorossi non ci stanno e reagiscono d'orgoglio. Al minuto 76 Leuci si supera prima su Morra e poi su Lanzone ma non può nulla sul destro piazzato di uno scatenato Varsi che dopo aver toccato il palo si insacca in rete. Emozioni finite neanche per scherzo. Già perché al minuto 90 Prota va via sul lato di sinistra e viene ingenuamente atterrato in aria da Lanzone per l'arbitro e calcio di rigore. Sul dischetto il solito Trotta che però manca clamorosamente l'appuntamento con la tripletta. Lo vecchio la blocca e diventa l'errore di giornata. Sfida in cassaforte e fischio finale dopo sette minuti di recupero. La festa è tutta barlettana. Tra sei giorni lo start, la partenza della 35esima regata velica internazionale, l'edizione della ripartenza dopo lo stop per la pandemia. Stiamo chiaramente parlando della Brindisi Corfu. Verso il traguardo, si va intanto verso il traguardo delle 100 adesioni. Servizio. Eccole le barche della Brindisi Corfu. Le prime ad ormeggiare in attesa dello start della 35esima edizione, fissato per le 10 di domenica 13 giugno. Sino a qualche settimana dietro sembrava difficile, se non impossibile, raggiungere il traguardo delle 100 adesioni, ormai vicinissimo, ma nei giorni scorsi c'è stata una impennata di iscrizioni, gratificando così quelli del circolo della vela, febbrilmente al lavoro per allestire la regata della ripresa, targata a Sanofi Cup. Lo stop dello scorso anno, imposto dalla pandemia, aveva interrotto la serie e impedito a Fabrizio Maltinti di vivere la sua prima esperienza da neopresidente. Ma ormai il più è fatto e le barche, abituali protagoniste dell'evento o all'esordio nella Brindisi Corfu, stanno facendo capolino nel porto interno, posizionandosi in quello che si può considerare il cuore della banchina, ossia il tratto compreso tra il grande albergo internazionale e la scalinata Virginio. Tra qualche giorno lo spettacolo sarà completo e lo scenario, pur con le restrizioni ancora in atto, sarà quello che conosciamo, suggestivo e variopinto. Vedremo chi dominerà in tempo compensato questa edizione, ma intanto ha già vinto la città, perché grazie al sostegno di tutti, a cominciare dalla Regione Puglia, sta scrivendo un altro capitolo della storia di questo evento, cominciato quando alcuni amici, accomunati dalla grande passione per il mare e per la vela, decisero di fare la prima traversata della serie, in vero assai diversa dalla competizione ipertecnica che avrebbe attribuito alla regata italo-ellenica un ruolo di primissimo piano nel contesto mediterraneo. Tutto avverrà tra sabato 12 con la tradizionale cerimonia di saluto agli equipaggi e martedì 15, quando nel Marina di Guvia si terrà la cerimonia di premiazione. All'indomani si comincerà a pensare all'edizione del 2022, la migliore possibile perché, secondo gli auspici di tutti, sarà quella del vero ritorno alla normalità. Ecco la formula di rito, buon vento a tutti. Era il nostro ultimo servizio, grazie ancora per averci seguito e per essere stati con noi, la parte tecnica è stata curata da Michele Marchitelli e Sebastiano Bufalo, io vi ricordo però questa sera l'appuntamento alle 22 con Passione Brindisi, in studio Cristina Cavallo e Davide Cucinelli, si parlerà di tutto quello che è successo ieri, delle prospettive di salvezza del Brindisi, di questa fiammella ancora accesa, per quanto adesso sia veramente difficile stando i calcoli e i numeri alla mano per i biancazzurri arrivare allo spareggio e si parlerà ovviamente anche di questione societaria, l'analisi completa del momento del Brindisi, ripeto con Cristina Cavallo e Davide Cucinelli in studio per questa edizione del TG Sport, però è tutto, grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!